D'accordo soldati, ascoltate, abbiamo una sporca bomba e quei bastardi vogliono usarla. Il nostro lavoro è arrivare lì e assicurarci che non ci riescano. Non possiamo rischiare di farci scoprire. Saremo veloci, potenti e silenziosi. Non sono ammessi errori, ma se qualcosa va storto, abbiamo il sergente Paxley. Ora so cosa starete pensando, è un anticonformista, magari anche un po' vecchio, ma è il miglior dannato cecchino che esista. Domande? Sì, quello è un cane. Non è una domanda, soldato. Quello è un cane? Molto meglio. Aversi forza. No, signore, aspetti! Quattro lettere. Si esclama per esprimere dolore. No, inizia per A. Signore, potremmo parlare di Paxley per un secondo? Quel dannato lupo solitario. Già, io non mi sento molto a mio agio a colui nella squadra. Cosa? Sa, contando il fatto che lui è un ca... Silenzio! Come l'hai scoperto? È abbastanza palese. Dannazione. Ascolta, gli altri non devono sapere del suo problema con l'alcol. Cosa? Non mi interessa se è un alcolizzato o meno. Io mi chiedevo come fosse entrato nell'esercito. Allora vogliamo riportare, non chiedere, non dire... Ma la domanda è se sei un cane, allora sì! Vedremo cosa dirai quando Paxley ti salverà da... Un'eposcata! No! 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 Non ha nemmeno i pollici! Lascia i tuoi pregiudizi a casa, soldato! È una trampola! Grande Paxley, perché non ci hai aperto? Perché non so parlare! Ma certo, quel vecchio lupo ha un piano! Quel figlio di puttana ha le palle! No, non è vero! Non ha le palle! Oh, quindi è un problema! Voglio dire, gliele hanno tagliate! Oh, quindi è un problema! Non ora, non palle tenente! Pianni, Ataxley, dov'è il fuoco di copertura? Signore, non c'è fuoco di copertura! Perché i cani non sanno usare le armi! Voglio dire, cos'altro ci aspetta? Un criceto pilota! Non essere ridicolo! Capitan Squeakers! D'accordo... Lo ammetto... Il sergente Paxley è un cane! Già! Che? Sarà anche un cane! E un alcolizzato! E fa la popò fuori casa! Ma Dio mi maledica, se non è il miglior soldato con cui io abbia avuto il privilegio di... Non poteva permetterci un dog sitter! Sono così costosi! E' davvero un lupo solitario! Chi è il mio gucciolone? Sei tu! Miau! Miau! Non potevi salvarci tutti, Paxley! Chi è il mio guillaggio... Chi è il mezzo! Chi è il mio guzzettino! Chi è il mio guzzettino! Chi è il mio guzzettino!